Credo che sia doveroso un intervento del Governo non tanto perché sollecitato quanto per ripristinare anche la realtà dei fatti e del percorso che ci ha visto lavorare insieme Governo e Senato in questi quattro mesi. Credo che l'atteggiamento che ha avuto il Governo nei lavori di tre mesi e mezzo in Commissione, in cui abbiamo avuto modo di lavorare a fianco dei due relatori, dei membri della Commissione, e le modifiche anche sostanziose che sono state apportate al testo iniziale del Governo dal lavoro in Commissione siano la prova provata della disponibilità del Governo a trovare dei punti d'incontro. Perché ricordo a tutti noi che il lavoro in Commissione ha visto non soltanto un ruolo attivo del Governo ma anche un parere favorevole del Governo agli emendamenti dei relatori e agli emendamenti che abbiamo condiviso in Commissione. Non c'è mai stata una contrapposizione tra Governo e relatori o tra Governo e maggioranza ampia, oltre quella di Governo che ha sostenuto i lavori in Commissione e che ha portato ad un testo approvato in Commissione con una maggioranza così estesa. Quindi oggi non si tratta di discutere semplicemente i sì e no del Governo, ma i sì e no di una maggioranza che ha votato quel testo in Commissione. Quindi non è semplicemente più il testo base del Governo iniziale.